Mister Banchini, è arrivata questa sconfitta per la Vispesaro, giusto il risultato secondo lei? Il risultato 2-0, è il risultato che premia il Pescara e io dico sempre che quando pareggi meriti di pareggiare di conseguenza oggi ha vinto il Pescara e non si cercano alibi, non ci sono scuse, non sono quel tipo di allenatore secondo me i ragazzi all'inizio della gara hanno preso questo, insomma, gol a freddo sul calcio d'angolo a tre giorni fa abbiamo fatto una partita impegnativa a Cesena, oggi hanno provato con tanti sforzi a stare dentro la gara però non è stato semplice, forse il Pescara ha fatto gol nel nostro momento migliore perché nel secondo tempo però abbiamo provato a ripartire ed attaccare certi spazi e ripeto, è una partita difficile, proibitiva per noi e dobbiamo arrivarci al 200% per essere competitivi col Pescara, altrimenti va a finire così Non state facendo bene in casa in queste ultime gare, perché? No, coincidenze, assolutamente coincidenze, noi proviamo a giocare come avete visto, proviamo a tenere il pallino del gioco e ripeto, contro il Pescara che ha questo punto di forza nel possesso non era facile però ogni sei partite c'è una media punti da rispettare, il nostro cammino è molto costante e dobbiamo continuare Due parole sul Pescara per chiudere? C'è giocatore troppo forti, vorrei pensare a, no, ti dico Clemenza, un giocatore che ha affrontato anche quando era a Como con la Juve 23, giocatore stratosferico, di talento, giocatore importante, della squadra non parlo, meglio che ci parla il mister